Il ponte non viene costruito con le parole, viene costruito con i fatti e quindi mi auguro che il ministro prenda in mano questa questione e mi risponda. Anas prenda a cuore questa questione e si prenda a carico questa statale che non è, e la continuo a chiamare statale perché non può essere il tratto padovano, considerato solo il tratto padovano una provinciale. Il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, continua a lanciare l'allarme sulla stabilità del ponte sul Brenta a Curtarolo. Fra dieci giorni i tecnici della provincia diranno come sta il ponte e se potrà esserci la tanto temuta chiusura. Se vedo che ci sia un rischio latente io quel ponte lo chiudo. Il tratto padovano della Val Sugana è una delle arterie principali della provincia. Le manutenzioni non possono essere delegate a Palazzo Santo Stefano, ribatte Bui. Devono intervenire il ministro competente e l'Anas. Il tempo delle parole è finito, ci dice. Il problema c'è, i cittadini chiedono soluzioni, non parole di solidarietà. Le imprese di quell'asta stradale, di quell'arteria stradale, stanno scappando. La Val Sugana non è più adeguata a quel traffico e le imprese stanno andando da altre parti. E quindi cosa aspettiamo? Aspettiamo che il ponte crolli per bloccare completamente l'economia dell'alta padovana o vogliamo intervenire?